Dieci volontari della misericordia di Soverato sono entrati ufficialmente a far parte di tale confraternita attraverso la cerimonia della vestizione svoltasi nel piazzale dell'oratorio San Domenico Savio durante la Santa Messa ufficiato dal parroco di Soverato Marina Don Pasquale Rondinelli. Questa sera tanti nostri fratelli hanno fatto la vestizione nella associazione della misericordia proprio per rispondere sì a questa chiamata di Dio che li vuole come segno del suo amore misericordioso in mezzo ai fratelli. In tutte le cose che sono chiamate a fare, perché noi sappiamo che la misericordia ha come compito specifico quello di avvicinarsi ai più poveri, ai più bisognosi, a quelli che sono in fin di vita, a quelli che anche sono morti. È stato veramente un momento bellissimo perché fin quando c'è qualcuno che dice sì a Dio per far crescere il bene vuol dire che ancora in questa terra c'è tanto bene, anche se il bene fa poco rumore rispetto a quel male che si dice sia tanto. La vestizione per i volontari della misericordia è un momento importante che richiede un percorso di preparazione spirituale. Le origini di questo rito sono molto antiche, come spiega la governatrice della misericordia di Soverato Antonietta Cutruzzola e ancora oggi consiste nell'indossare la veste nera, buffa, simbolo di tutti i valori dell'associazione. Per noi la vestizione è il vero incontro con la misericordia. I confratelli che prendono la veste storica, chiamata così, la buffa veramente, è il socio effettivo, confratello di misericordia. La veste risponde, come diceva Don Pasqualino nell'Omelia, alla carità, quindi ci si offre a Dio a dare carità alla più debole. La vestizione nasce come nasce la misericordia nel 1244 a Firenze, quando i nobili fiorentini aiutavano i poveri senza essere riconosciuti e usavano questa veste. Oggi è rimasta la veste che viene indossata proprio nelle cerimonie in segno di carità, ma per l'operatività usiamo le divise, le tute storiche colorciano e giallo. Quelle sono le divise per l'operatività, per le nostre attività giornaliere, sanitarie, sociali e protezione civile. Per questa è una veste di rappresentanza, è un segno, così come si riceve un sacramento, noi della misericordia con la veste ci consacriamo verso la carità, la solidarietà e l'amore, verso il prossimo. Se oggi abbiamo l'ambulanza, io devo dire grazie ai ragazzi, il grazie principale è loro, anzi auguro che loro possano rimanere sempre con questo spirito che hanno oggi, perché hanno uno spirito veramente molto attivo. Tra l'altro l'ambulanza l'abbiamo dedicata a Sara, che è un'altra volontaria, nonostante non fosse una volontaria di misericordia, ma era una volontaria dell'oratorio, quindi stava in mezzo ai giovani e a noi quello che ha senso è il volontariato, o la misericordia o in un'altra associazione l'essenziale è che si faccia volontariato. Al termine della cerimonia è stata inaugurata una nuova ambulanza, la presenza del sindaco della città Ernesto Alecce, del consigliere Emanuele Amoruso, del sindaco di Montepaone Mario Migliarese e dei consiglieri nazionali Angelo Cuzzola per quanto riguarda le misericordie d'Italia e Antonio Santoro. Un momento importante è questo per le nostre famiglie, perché per noi le misericordie sono delle seconde famiglie. I ragazzi di Soverato hanno risposto alla chiamata che è arrivata e che ha sancito il passaggio a volontario effettivo. E poi anche l'occasione dell'inaugurazione di questo nuovo mezzo è arrivato anche con i sacrifici di tutti i nostri ragazzi, della governatrice, l'impegno che giornalmente loro mettono a svolgere le proprie attività qui sul territorio. La vestizione è un segno importantissimo per il nostro movimento, fa sì che veramente coloro che tutti i giorni si prodicano per il prossimo in soccorso di chi ne ha bisogno oggi veste e crede nei valori di otto secoli di misericordia.